Come per la Eternit, dove la città di Casale ha rinunciato a costituirsi parte civile in cambio di 18 milioni, così anche la ThyssenKrupp gioca la carta dell'indennizzo e propone al Comune di Torino di ritirarsi dal processo d'appello in cambio di un milione di euro. Il sindaco Fassino sentirà prima il parere dei familiari delle sette vittime e poi deciderà se rinunciare alla costituzione di parte civile. Non si tratterebbe di una transazione, ma del riconoscimento immediato di quello che i giudici hanno decretato in primo grado, condannando i vertici della società per omicidio volontario con dolo eventuale, a partire dall'amministratore delegato Herald Espenan, 16 anni e mezzo di carcere. In appello, condanne cifre potrebbero anche essere ridimensionate, cosa su cui il vice sindaco Tom De Alessandri invita tutti a riflettere. Nell'ultima riunione di giunta, Fassino ha discusso della questione con gli assessori e le posizioni sono diverse, tra chi sostiene che è meglio accettare, impegnando poi le risorse come promesso in borse di studio e corsi per la sicurezza sul lavoro, e chi dice che l'assenza del Comune in giudizio indebolirebbe l'accusa. Non è stata dunque presa ancora una decisione, anche perché il sindaco si è riservato di sentire prima il parere dei familiari delle vittime del rogo del 2007. Grazie a tutti.